PIZZA! C'è una banana! C'è una banana fantasma dentro per entrare lì! VITA DELLA LA BANANA! Ehi! Siete tutti qua? Bene, farò un bel frazzetto con tutti voi! Guardate, ci sono delle banane che ci stanno inseguendo! Ebbene sì, nel gioco di oggi dovremo scappare da delle banane! Scusate, ho mangiato! Delle banane ci stanno inseguendo! Ma non ce le possiamo mangiare noi le banane? In questo caso saranno le banane a mangiarci e si stanno vendicando perché noi mangiamo tante banane! Non ci credo, abbiamo mangiato una banana! Ma sei già morto? Sì! No, vabbè! Come non detto? Che figo, abbiamo una banana come zaino? Sì, ma non ci ha protetto dalle banane assassine che ci hanno mangiato! Ok, finalmente è finito l'altro gioco e possiamo ricominciare noi! Sono stati tutti mangiati dalle banane! Vedete, con queste x fa vedere che siamo stati tutti mangiati dalle banane! Ma questa volta torneremo nel gioco e proveremo noi a mangiare le banane! No, in realtà no! No, proveremo semplicemente a scappare e a non farci mangiare le banane! Oh, dobbiamo votare per la mappa! Liceo pelato! Supermercato sinistro! Ma sono tantissime! Eh, non lo so! Nooo! Non l'ho già deciso! Non l'ho fatto in tempo! Vabbè! Banana spaccata! Scappare! Scappare! Preparati! Si comincia! Ecco! Nasconditi le uscite si apriranno presto! Aiuta! Ok, ok! Dove andiamo? Dobbiamo nasconderci un nascondino contro una banana gigante! Non avrei mai pensato che avremmo fatto un nascondino! Contro una banana gigante! Mi ricorda un po' il gioco del topo! Vi ricordate? Sì! Già qui dovevamo scappare! La banana è qui! Oh no! Non so perché ma è molto inquietante! Oh no! Anche se è solo una banana fa paura! Ok! Io mi sono nascosto! Proviamo a passare da qua! Puoi sapere dove mi sono nascosto? Dove? In cucina! Avrei dovuto indovinarlo! Vitale per forza si nasconde in cucina! Ma scusa eh! Sono entrato! Ho visto un piatto con una fetta di torta! Ho detto che fai! Ma guarda che ci sono tante fette di torta in giro! Infatti mi hanno già preso un bel po'! Sì! Quindi posso uscire a prenderne altre allora? Sì ma non farti mangiare dalla banana eh! Ho trovato una molletina a banana! Ah! Ma sei tu questa! Ma mi hai rubato la molletina! E' mia! Ah ecco sono in cucina quindi vitale qua vicino! Ma sono qui! Mi ero nascosto una! Ah no no! Ho visto una banana! Dove? È già arrivata! Nascondiamoci qua sotto! Dove siamo? Uh! Il ristorante! Che cos'è questo? Vediamo che cosa c'è! Devo dire che ha fatto molto bene questo gioco! Mi piace un sacco! PIZZA! C'è una banana! C'è una banana! C'è una banana fantasma dentro! Non entrare lì! Oh aspetta! Ho trovato! No! Che figo! Ho trovato una vetrina piena di banane! Wow! Ma non credo che si possano prendere! Poi sarebbero ancora di più le banane giganti! Magari sono i loro figli! Sì! Ok! Mi sono nascosto nel mobiletto! C'è una banana! Scappo! Scappo! Sono nascosto nel mobiletto lì! Mi fa ridere il fatto che dobbiamo scappare da delle banane! Ma è comunque pauroso come gioco! Voi ovviamente lasciate un bel mi piace qua sotto! Perché se questo video raggiunge i 5000 mi piace! Faremo una seconda parte in cui scappiamo dalle banane malefiche! Oh no! Banana ti vede! Oh no! Mi sono scritto che la banana mi sta vedendo! Aiuto! Mi stai inseguendo! Come fa? No! Ti ha mangiato! Sì! Sono tornata all'inizio! Mancavano solo 40 secondi! Avrei potuto vincere! Ha mangiato anche me! Oh no! 40 secondi! Nella chat qualcuna dice AnitaStories ciao! Alleluia! C'è uno youtuber! Ogni tanto ci riconoscete! Ehi! Sì abbiamo! Sì è già votato! Supermercato sinistro! Volevo un liceo pelato! Ma no! Il supermercato almeno mangiamo qualcosa! Ma io voglio sapere come è fatto un liceo pelato! Ahahahah! Un liceo pelato! No! Beh effettivamente! Ah beh è ovvio che Vitale vota il supermercato! Eh sì! Mi sa che ha vinto il supermercato! Vediamo! Finalmente! Andiamo a mangiare! Sì siamo al supermercato! Ma è il supermercato pieno di banane! Mi dispiace per te ci sono solo! No! Guarda ho trovato una torta! Come si fa a prendere la torta! Allora io mi sono nascosta qua in questo armadietto! E' passata la banana e non mi ha visto! Wow che fortunata! Credo che la tecnica migliore sia nascondersi bene! Ehi ti vedo! Cocco chi è qui? Dove sei andando? A me sto prendendo le monetine! Ehi ma cosa serve il nostro zainetto? Ehi pezzo! Magari ha qualche superpotente! Ti ha preso? No la banana mi accende! No! La banana mi ha fatto cadere ora sono spiaccicata per terra! Anche me lo sai? Ok ora sono libera! No! No! Mi stavo per prendere! Mi stavo per scappare! Attento! Si l'ho vista! Sto scappando! Ho ancora due cuoricini! Come il gioco del topo! Oh oh! Aiuto aiuto aiuto! Aiuto aiuto! Mi hanno preso di nuovo! Ti ha preso? Mi manca ancora un cuoricino! Forse ce lo faccio! Dai due minuti! E poi dice che fra poco le uscite saranno aperte! Dobbiamo andare alle uscite e scappare subito! Nooo! Che cos'è questo? Un puzzle! Vitale è stato mangiato! Mi dispiace Vitale si è stato mangiato! E mi ricorda anche il gioco del serpente! L'avete visto? Si che figo! In cui bisognava scappare dal serpente! Però a volte eravamo noi serpenti! Infatti speriamo di capitare banane anche! Perché? Dai che ce lo puoi fare! Attenta lì! Che stondo qua dentro! Penso che ti ha visto! Nooo! Vai vai scappa scappa! No aspetta! Perché sono ancora viva? Perché ti ha preso solo un cuoricino! Ne hai tre! Ma sapevo di avere tre vite! Cioè quindi le banane possono anche entrare dentro gli armadietti! Attenta quella banana! Oh qua c'è qualcuno che è caduto poverino! Dai! Scappa scappa! Aiuto! Oh no ormai mi ha visto! Oh no! Solo un beccolo cieco! Ce la potevi fare! Vai 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 vai! Ancora un cuoricino! È velocissimo! Ti è rimasto un cuoricino! Sarà ancora inseguendo? Ma puoi uscire? No 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 no! Abbiamo perso di nuovo! Uffa! Dai dobbiamo impegnarsi di più riuscire a scappare dalle banane! E soprattutto vediamo se riusciamo a capitare noi banane! Perché non vedo l'ora di rincorrere vitale da banana gigante! E se invece la banana sono io! Allora come la mettiamo eh! Ti inseguirò! Non vorrò scappare io! Ti eliminerò subito! Per prima! Ma se volete entrare a far parte della storia ferrissima! Mi piacerò tantissimo! E fateci sapere qual è la vostra creatura preferita anche! Scrivetemi nei commenti se ce l'avete già! Se l'avete già letto! Scrivete giù nei commenti! Ok! Dai! Vota per la scuola che adesso appare in inglese! La scuola pelata! Ma chi è senza la scuola pelata? Andiamo tutti nella scuola pelata! Vota subito! Ho votato! Ah perché probabilmente è la scuola delle banane pelate! E' vero! Sono in giro! Oh! Oh! Aspettiamo! Ah! Siamo di nuovo in quella sorta di... Che cos'è? Un'area giochi? Ah ok! C'è anche il puzzle quindi! Pensavo di essere la banana invece no! Voglio essere la banana! La banana è già arrivata! Come è già arrivata? Eccolo! La vedi? Sta passando qua! Davvero! E' la banana gialla con gli occhi rossi! Non la vedo! E' la più inquietante di tutti! E' andata di qua! Vieni! Ah! E' appena uscito! Dai! Tranquilla! Tranquilla! Andate avanti! Sono in cucina! Eccolo! La vedete? E' la più inquietante! La banana gialla con gli occhi rossi! Dai! Dobbiamo resistere ancora 4 minuti! Uffa! Ma io mi annoio a stare nascosta! Ah! La banana pure le corra! Troppo cattiva di tutte! Io ho risolto questo puzzle della... Ah! Aiuto! Mi ha morso! Mi ha preso? Si! Mi ha tolto un cuoricino! Ok! Sto facendo questo puzzle velocemente! No! Mi sono spaventata! Però solo che ho completato il puzzle! Mi ha preso un altro cuoricino! No! Sei stato preso dalla banana con le cuore! No! Adesso si! Mi sarei stato mangiato! Ma perché? Io sono così schiappa in questo gioco! Manca solo un minuto! Scappa! Ma no! Ma no! Ti vede! Dov'è? Siete rimasti in due tipo! No! Manca così poco! L'uscita è aperta! Ma veramente? Cosa? Posso scappare? Sei sopravvissuto? Ce l'ho fatto! Ce l'ho fatto! C'è l'ho fatto! C'è l'ho fatto! C'è l'ho fatto! Prossima partita dai liceo pelato! Liceo pelato! Ok! Vai! Siamo nel liceo pelato! Siamo nel liceo pelato! Sì 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 sì! Siamo in palestra! Vedete? Eh? Questa è la palestra! Scappiamo su da qui dalle scale! Ma queste scale sono chiuse! Sono gli spalti! Non sono le scale! Non può esserci solo la palestra in questo liceo! La banana è qui! Ecco! Siamo a scuola! La banana con gli occhi verdi! Che brutta! Biblioteca! Ah! La banana è la propria biblioteca! Non so cosa ci faceste lì! Il sensore è rosso qui! Quindi potrebbe essere qua vicino lei eh! Quale sensore? Il sensore dietro allo zaino banana! Non sapevo! Quindi quando è rosso vuol dire che è vicino! Ok! Adesso è bianco quindi vuol dire che è lontana! Banana è andata! Game over! L'abbiamo vinto! Che... Come è andata? Dov'è andata la banana? Frutta e verdura! Dov'è andata? Forse si è acquistata! È andata male! Ok! Il prossimo è... Cimiliero della spazzatura! Dai! Siiii! E... Ma dove siamo? Ah no! Siamo al supermercato! Questo è il posto preferito di tutti i giocatori! Votano sempre il supermercato! Penso sia Infection questo eh! Bene! Sarà ancora più divertente! Oh no! Oh no! Che c'è? Mi è apparso il simbolo della morte! La banana è stata rallentata! Ah forse perché ho messo il pezzo di torta! Ah! Funziona così? Sì! Quando completi un pezzo di puzzle la banana si rallenta! Finora non ho visto la banana! Oh! Eccola! È una banana strana! Tipo una banana a marcia! Con un cappello! Eh! Sono un'altra banana! Oh no! Oh no! Mi hanno preso! No! Ti ha preso! Ti ha preso! Sono diventata una banana! Sono una banana gialla con gli occhi verdi! Però devo dire che sono un po' carina come banana dai! Oh oh! È un po' carina questa banana! E ora andiamo a cercare! Vitale! No 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 no! Aiuto aiuto aiuto! Mi sta rinsecuando le banane! Mi sta rinsecuando le banane! Perché rilascio così tante bolle eh! Perché sei in modalità fantasma forse no? No! Non sono un fantasma! Sì! Ti hanno infettata! Quindi sei tu una banana! Eh sì! Adesso hai capito! No no no! Sono rinsecuando! No! Sono diventato una banana anch'io! Dove sei? Che banana sei? Una banana gialla eccomi! Allora siamo tutti banane gialle! Possiamo avvicinarci alle banane senza avere paura! Cioè tipo... Guarda che carina questa banana ha in testa un cappello con un albero e i fiorellini! Ma noi dimentichiamoci di Anita Bananita! E' buono! Bananita! Wow la banana salta pure! È troppo carina! Vediamo vediamo vediamo! Non mi interessa cercare gli altri giocatori perché mi diverto troppo come banana! Io invece si vado a prendere gli altri giocatori! Ehi ma sono lentissima però anche tu sei lentissimo! Sono un po' lento sì! Oh qua c'è una mega banana! Avvicinitelo il corridoio intermodo! Giocatore nascosto dove sei? Ti troveremo! Non ci credo che siamo 10 banane cioè siamo un casco di banane! Non ci credo la prima volta che sono una banana e perdo! Non è possibile! Eh ma questo giocatore è super bravo allora! Abbiamo perso! Abbiamo perso! Proviamo banana spaccata! No ha vinto scappare di nuovo! Eccoci qua! Questo è davvero uno dei posti preferiti da tutti! Sì a questo centro divertito! Scusa se ti interrompo ma c'è scritto presto! Presto! Presto di essere banana! Cattiva! Si genererà presto! Aiuto 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 non ti azzardare a cercarmi eh! Sono una banana! Non ti azzardare a cercarmi! Banana è qui! Dove siete? Nel frattempo dici com'è essere banana! E' fighissimo! Com'è mangiare qualcuno? Ancora non ho trovato nessuno però posso sabotarvi anch'io i puzzle! Quindi vediamo vediamo! Dove? Dove? Dall'altra parte! C'è qualcuno qui! Chi è questo? Chi è questo? Voglio sapere chi è questo! Ancora non hai eliminato nessuno! No! Scappano tutti! Ho preso qualcuno! Ho preso qualcuno! E' la vita! Aiuto 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 aiuto! No! Non ti azzardare a mangiarmi eh! No! Mi hai tolto una vita già! Sì sì! Sappi che mi vendicherò quando sarò io a banana nella propria età! Aiuto! Sto mangiando questo! Perché non scappa? Allora ho visto Anika passare! No! Stai lento! Meno male sei lento come banana! No! Di un borso mi sa! Banana ti vede! Cosa? Fuga! Dove? Dove sei? Forse ora posso scappare! Oh! Dove era l'uscita? Qualcuno è fuggito! Manca cosa! Oh! Ma state scappando! Non ci credo! E' certo che stiamo scappando! Mica vogliamo rimanere qua con te! Devo riuscire a prenderti allora! Dove siete? Le uscite sono qui! Manca poco l'uscita! Ho solo una vita però! Io so dove è l'uscita! E ti aspetterò qui! Se non sbagliare qua! Ma non c'è neanche l'ombra digitale! E questo chi è? Io esco con calma! Cia cia! No! No! La vita è fuggito! No! Ma tu non eri lì! E l'hai uscita! E allora eri nella parte sbagliata! Era l'uscita! E' solo che ho visto un altro giocatore! E ho detto... No! Non ci credo però! Siete riusciti a fuggire e io ho perso! E ma insomma eri un po' lento come banana! E poi non sapevi dove era l'uscita! Si eravamo andati sia l'uscita! No! Ero lì! Solo che ho visto qualcuno che stava scappando e ho detto adesso provo a mangiarlo! E invece no mi ha ingannato! Ehi! Dove andiamo? Allora vediamo! Qualcosa che non abbiamo visto ancora! Menor banana! Menor! Si si si! Che sarebbe la casa delle banane! Wow che figo! Voglio vedere la casa delle banane! Vai! Che figo! Ragazzi sono io la banana! Bananita! Bananita è qua! Ok! Allora è il momento di scappare Vitale! Perché penso che Anita si vendicherà perché le ho tolte due cuori! Dai aprite le porte! Devo andare a mangiare Vitale subito! La banana è qui! E sono pure a casa mia! Andiamo a mangiare subito questo giocatore! Ehi! Non facciamo scherzi! E gli ho dato un morto ma non è morto! Oh guardate che bello! Lo devi mordere! Lo devi mordere tre volte! Ho i quadri! No vabbè ci sono i quadri! Tutti con le banane! È troppo bella questa casa! Guardate che carino! È tutto a te ma banane! Vai vai! C'è una banane incorniciata! Oh qua c'è qualcuno! Oh no! Prezzo! Non mi direi che sei vicino! Prendiamolo! Uffa! Ma voi mi pilate la sotto in quei passaggi segreti e io non riesco a prendervi! C'è nessuno! No no non c'è nessuno! Comunque ti avverso che stiamo facendo in squadra un sacco di puzzle e quindi riusciremo a scappare! Chi è questo? Ho trovato qualcuno! Ho mangiato! Ho mangiato! Ho mangiato! Ho mangiato di nuovo! Perché avete tre vite? È troppo difficile per una banana mangiare tre volte! Troppo figo! Questa è una lentissima! Sì è bellissimo! Davvero è stupendo questo gioco! Sì! Ho preso qualcuno! Devo prenderlo nuovamente! Ma come fai? Come fai a prendere tutti questi? Eh sì! Il problema è che le uscite saranno aperte due minuti! Oh no! Non so neanche dove è uscita! Ok ho preso qualcun'altro un'altra volta e ora mi manca l'ultima vita! Dove scappi? Ferma! Oh oh! Qualcosa dice che tu sei qua vicino? Sì! Ho mangiato qualcuno! Ehi! Siete tutti qua? Bene farò un bel brazzetto con tutti voi! Siete tutti qua! Ora controllo l'uscita vediamo se vi azzardate ad avvicinarvi all'uscita eh! La cosa importante è che mi sono allontanato da te finalmente! Io rimango qua immobile così non potete scappare! Ok un altro puzzle! Ehi! C'è qualcuno nascosto qua dietro! No 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 no! Oh no! L'uscita è aperto! Non vi azzardate a scappare da qua! Perché ci sono io che vi aspetto capito? Ciao Anita! Vitale è fuggito! Come vi posso fuggire? Non si unirebbe finito! No! Perché sono troppo bravo! No vabbè! Come hai fatto? Beh guarda che io ho mangiato un po' di persone eh! Io ho vinto! Sì! Ho vinto! Non ci credo che mi è scappato Vitale! Sì! Tra l'altro ho conservato tutti e tre i cuoricini quindi non sei riuscita a... Oh vai! Infatti non ti ho visto mai! 8 secondi! 7! 6! 5! 4! 3! 2! 1! Game over! Come ho fatto a fuggire? Qualcuno è fuggito! È perché è scaduto il tempo! No! Forse c'era un'altra uscita! Può essere anche sì sì! Wow è stato super divertente! Yes! Se volete che facciamo un altro episodio lasciate un bel mi piace qua sotto! E ora vi lasciamo qua quante per le linee su cui cliccare per vedere i nostri altri video! Cliccate su quello che preferite! E buona visione! Buona visione! Buona visione!